Cosa succederà nelle puntate di Terra Amara dal 3 al 9 luglio 2023? Scopriamolo assieme. Gafur apprende da Rasit che Jengavere è stato ucciso da Atip. Quindi, scrive all'assassino una lettera ricattatoria. Ankar incontra Sevda. Si tratta della donna che le ha sottratto l'amore del coniuge, essendone stata l'amante per anni. Adesso Ankar scopre che le ha portato via anche l'amore del figlio Demir. Ankar non perde tempo quando viene a sapere che Zuleya si è svegliata dal coma. Va in ospedale e lì le chiede perdono, promettendole che sarà sempre al suo fianco. Dopo aver ricevuto una lettera anonima con tanto di ricatto per l'omicidio di Jengavere, Atip si reca nel bosco per dare dei soldi al misterioso ricattatore. Trova ad attenderlo Sherman nella sua auto. Per evitare una scenata di gelosia da parte dell'amante, Atip pensa di portarla con sé. Quando nasce riceve la lettera di divorzio, vuole vendicarsi. Quindi, denuncia in procura il coniuge Atip per l'assassinio di Jengavere. Nel frattempo, Atip scopre che Gafur è il ricattatore. Così, tenta di sparargli. Nel corso dello scontro, Gafur gli sottrae la pistola e lo ammazza. Sherman vede la scena, ma sceglie di non dire nulla. La notizia dell'omicidio di Jengavere da parte di Atip giunge anche a Demir, che lascia Zuleya da sola in ospedale. Lei coglie la palla al balzo per parlare con il Maas e confessargli il segreto che ha mantenuto fino a quel momento. Il piccolo Adnan è suo figlio. Non solo, aggiunge che Mushgan ha tentato di ucciderla e non omette i soprusi subiti dagli Yaman. Il Maas, alla luce di quanto scoperto, vuole riprendersi Adnan. Al fine di impedirglielo, Zuleya minaccia di gettarsi dal balcone della sua camera in ospedale. La salvano prontamente Gulten e Il Maas. Demir vede la scena. Temendo che Zuleya voglia togliersi la vita di nuovo, corre da lei. Zuleya sostiene di aver perso l'equilibrio. Anche se Gulten conferma questa versione, Mushgan non sembra esserne convinta. Dopo aver saputo di essere il padre di Adnan, Il Maas si nasconde nella casa degli Yaman. Ha tutte le intenzioni di uccidere Ankar. Solo l'arrivo del piccolo Adnan lo fa desistere. Fikret per un soffio non investe Shermin. È mortificato e si offre di andare con lei in ospedale in modo che un medico la visiti. Zuleya avanza due richieste. Domanda a Sabattin di dimetterla e a Gulten di aiutarla a riprendere le redini della sua vita. Atip è ritrovato nel bosco senza vita. La gente pensa che la causa dell'omicidio sia il fatto che abbia tentato di prendere per il naso i misteriosi uomini di affari di Ancara. Secondo la teoria, questi gli avrebbero sparato per vendicarsi. La testimonianza di un pastore avvalora questa versione dei fatti, poiché sostiene di averli visti litigare con lui e minacciarlo. Zuleya viene dimessa dall'ospedale. Fa rientro a casa e lì può riabbracciare i suoi figli, finalmente. Grazie all'aiuto di Gulten, Zuleya riesce a vedersi con il Maas. In questo modo gli fa passare del tempo con Adnan. Inoltre, possono decidere le prossime mosse per confidare in una vita serena insieme. A seguito dell'incontro, il Maas rientra a casa. Punta il dito contro Mushgan, accusandola di aver tentato di uccidere Zuleya. Tuttavia, Fekeli difende Mushgan, sostenendo che si trovasse in casa a fare il bagnetto a Keremali in compagnia della zia. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.